Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dove oggi vi andrò a far vedere che cosa intendo io per liquidità interna ed estergai intanto qua vi lascio due operazioni condivise da me nel mio gruppo questo qua purtroppo è andato a breakeven e invece questo qua è andato a target, un bellissimo 1 a 10 il mio target secondo ovviamente tutte queste operazioni sono state prese con la strategia della sua sessione asiatica e io volevo puntare fino a qua ma dato che è arrivato qui in modo molto lento non mi è piaciuto vedere un po' quello che stava succedendo quindi semplicemente se il prezzo andrà giù io qui comunque ho ancora il 10% aperto però il 10% comunque è molto poco rispetto a tutta l'intera operazione allora quindi andiamo a vedere un po' quello che io vado a intendere per liquidità interna e esterna allora precisiamo una cosa liquidità esterna vado ad intendere tutto quel tipo di liquidità che è al di fuori di uno swing ovvero se noi abbiamo questo massimo e questo minimo ok questo è il mio minimo questo è il mio massimo perfetto tutta la liquidità esterna è la liquidità che è al di fuori di questo swing ok mentre invece la liquidità interna è la liquidità interna a questo swing che è molto utile perché la possiamo usare sia come punto di partenza e sia come target da arrivare perché bisogna sempre tenere conto che la liquidità deve essere presa ok quindi per noi è molto importante allora per farvi una distinzione molto semplice di liquidità noi dividiamo tre macro categorie di liquidità ovvero la mayor liquidity, la medium liquidity e la minor liquidity ok qual è la differenza tra queste tre? semplicemente la differenza è in base all'operatività della singola persona ovvero se una persona ha un'operatività intraday andrà a scegliere o una medium liquidity o una minor liquidity se invece una persona ha un'operatività multiday ok anche se di questi tempi è un po' difficile avere un'operatività multiday andremo a prendere una mayor liquidity ok quindi semplicemente ok noi andiamo a scegliere la liquidità in base al nostro tipo di operatività quindi semplicemente questo perché? perché nella mayor liquidity noi avremo molta più liquidità da andare a prendere dato che magari sono dei massimi giornalieri eccetera quindi di conseguenza il numero di pips quindi pips maggiori ok però bisogna fare attenzione perché il numero di pips sarà maggiori ok ma anche il nostro stop sarà maggiore e dato che quello che noi guadagniamo non è in base alle pips come 9 persone su 10 credono ma è in base al nostro stop loss e al nostro rischio che andiamo a mettere ok dovete prendere le vostre precauzioni ovviamente se una persona ha lavora e non ha troppo tempo libero allora ci sta andare a fare dell'operatività con dei pips maggiori scusatemi con uno stop loss maggiore e un rischio maggiore un rischio minore però lì dipende molto dalla soggettività della persona e dal tempo che la persona ha a disposizione esempio se una persona fa 150 pips con 10 pips di stop e una persona fa 15 pips con un pips di stop rischiando la stessa cifra faranno esattamente la stessa identica cosa ok perfetto magari se volete un approfondimento su questa cosa qua basta che me lo fate sapere nei commenti ok e vi porterò proprio un video sulla gestione del rischio e come capire bene quando andare a rischiare che cosa andare a rischiare comunque tornando al discorso di prima molto semplicemente la liquidità interna ok noi la possiamo andare ad utilizzare come eventuale target ed eventuale conferma ulteriore della nostra analisi di mercato noi ci troviamo in questo swing ok sappiamo che il prezzo mi builda liquidità in questo modo ok magari mi crea tutto questo tipo di liquidità ok scusate facciamo così facciamolo più lungo ok mi crea tutto questo tipo di liquidità perfetto a questo punto noi sappiamo che c'è liquidità sia qua sotto e sia qua sopra scusatemi ho invertito vabbè a questo punto noi sappiamo che c'è liquidità sia qua sopra e sia qua sotto ok perfetto di conseguenza il mercato cosa andrà a fare cosa tenderà ad andare a fare magari anche durante la nostra sessione asiatica di cui abbiamo parlato fino ad adesso potrà andare a sbilanciare questa liquidità al di sotto ok per poi effettivamente andare su quindi noi andiamo ad utilizzare questa liquidità sotto come punto di partenza ok come punto di partenza e la liquidità qua sopra ok quindi tutta quella che c'è qua e qua sopra al massimo la andiamo ad utilizzare come punto di arrivo ok questo è molto importante molto importante e all'interno magari di queste situazioni qua noi potremmo trovare anche uno schema di questo tipo il prezzo mi potrebbe anche trovare mi potrebbe anche buildare una situazione di questo tipo dove il prezzo mi va a bucare i minimi sotto qua 9 persone su 10 dov'è che vanno a posizionarsi qui ok quindi qua c'è la nostra prima smt ovvero smart money trap ok detto questo significa che qua la maggior parte delle persone entrerebbero short perché cosa hanno visto? hanno visto semplicemente per loro un boss ok perfetto di conseguenza non vanno a pensare che questo qua è semplicemente una presa di liquidità che deve essere presa per andare su quindi quando loro arriveranno in questa situazione si ritroveranno il prezzo sfondato ok quindi questo è molto importante ok molto 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 importante noi di questo diciamo che di questo concetto ok questo concetto è un concetto molto semplice e proprio basilare ok però è molto importante se contestualizzato nel modo corretto perché come noi adesso andiamo a vedere qui ok molto semplicemente qua il prezzo mi va a buildare liquidità qua sotto me la sbilancia ok qua 9 persone su 10 si vanno a posizionare short e il prezzo li taglia fuori ok cercate sempre di ragionare con l'idea di devo cercare di capire dove il 90% delle persone entra per non fare lo stesso errore ok quindi questo è molto importante adesso andiamo a vedere a grafico qualche esempio ok prendiamo un esempio di euro dollaro che è molto 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 semplice noi abbiamo come punto di riferimento ok punto di riferimento questo massimo qua ok siamo nell'M15 ok quindi noi abbiamo come punto di riferimento questo massimo qua in linea generale il nostro minimo prevalentemente è questo perché la chiusura di corpo è più bassa qua a sopra ok c'è tutta 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 liquidità il prezzo cosa ha fatto? è andato a sbilanciarmi la liquidità per andare giù quando qua 9 persone su 10 pensavano che euro dollaro continuasse ad andare su quindi questo è un pretesto molto importante da parte del prezzo perché come vi ripeto sempre noi dobbiamo cercare di capire dove le persone vanno a posizionarsi non dove non andrebbero a posizionarsi ma ce ne sono poi tantissime altre situazioni ok prendiamo come esempio anche questa situazione qua il mio bellissimo swing era questo perfetto il prezzo cosa ha fatto? è andato a sbilanciarmi tutto questo doppio massimo di liquidità ok è andato a farmi una presa di liquidità ascoltemi al di sopra di questo massimo ok con questo movimento qua e il prezzo ha cominciato a scendere ok perché tutta questa situazione qua è liquidità interna di uno swing di conseguenza il prezzo qua mi stava buildando liquidità ok perfetto lui è andato a sbilanciarmi questo doppio minimo con questo movimento qua 9 persone su 10 si sono messe qui per lo short e il prezzo cosa ha fatto? è andato dritto presa tutta la liquidità allora scendiamo ok molto semplicemente proprio poi vediamo anche un altro esempio ok qui stesso identico ragionamento il prezzo qua mi aveva buildato un doppio massimo di liquidità con questo massimo che potremmo comunemente chiamarlo un triple drive comunque un degli quali ok il movimento mi va a creare un movimento rialzista che mi va a rompere la struttura rialzo ma il prezzo vuole andare su vuole andare giù non vuole andare su perché? perché semplicemente mi andrà a bucare il mio minimo precedente ok perché? perché anche qui è liquidità vedete che qui lui mi ha formato due equal o il prezzo mi ha sbilanciato questi equal o e il prezzo è andato su molto semplicemente ed è continuato ad andare su ok però vedete cercate di capire bene dove si trova la liquidità per andare a renderla usarlo come punto di target come punto di arrivo perché qui era un punto di partenza ok e qua un punto di arrivo allo stesso tempo era anche un altro punto di partenza ok il mercato non si muove con supply demand eccetera ma si muove semplicemente a liquidità quindi voi cercate di capire bene dove si trova questa liquidità e allora lì avrete la possibilità di capire bene il mercato capire la narrativa che c'è dietro al mercato perché non è così semplice come tutti ve lo vogliono far a credere ma alcuni hanno detto che la strategia sulla sessione asiatica è semplice sì è semplice perché effettivamente non è una cosa difficile la strategia sulla sessione asiatica ma allo stesso tempo cos'è difficile fare dopo? fare le entrate quello è difficile perché bisogna sapere il punto giusto perché se questo noi lo dobbiamo far diventare il nostro lavoro ok io devo essere in grado di entrare qua di entrare qui e di entrare qui perché? perché se è il mio lavoro devo farlo nel migliore dei modi non entrare qua o qua o qua e comunque entrare in ritardo è questo su cui io punto tanto mi piace ok questa cosa qua perfetto comunque per questo video è tutto vi chiedo una cosa allora prima di tutto vi lascio il link del mio canale discord e del mio profilo di instagram nel primo commento ok secondo mi piacerebbe aggiungere un determinato numero di like ok magari un 200 like non sarebbe male soprattutto iscrivetevi ok che tanto è gratuito e mi aiuta tantissimo soprattutto altra cosa altrimenti importante magari fatemi sapere sotto nei commenti ok che cosa vorreste vedere in futuro adesso io sto già preparando una piccola strategia per quanto riguarda il ciclo di mercato di 90 minuti non so se sarà già il prossimo video perché comunque essendo completamente una strategia devo backtestarla per un po' di tempo ok quindi ditemi voi quali argomenti magari vorreste vedere o che cosa che cosa vi potrebbe interessare vi auguro una piacevole giornata è un po' di tempo che è un po' di tempo